La situazione alla Brioni, grazie alle interlocuzioni con i Ministeri del Lavoro e dello sviluppo economico sulla crisi dell'azienda, abbiamo tenuto rassicurazioni che ottobre verrà riconvocato al Mise il tavolo con aziende e rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori come richiesto dai sindacati. Lo hanno dichiarato Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e Daniele Marinelli, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico. La vicenda della Brioni è una vicenda come è noto molto complessa, di cui stiamo provando a occuparci da molti mesi accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di quell'azienda, accanto ai sindacati che ne difendono le ragioni. Ed è una vicenda importante perché riguarda la vita di tante famiglie di lavoratrici e lavoratori e perché riguarda il destino produttivo di un'azienda che resta centrale per il futuro industriale e produttivo dell'Abruzzo e in particolare dell'area Vestina. Come è noto è una vicenda che ha conosciuto la presentazione di un piano industriale da parte dell'azienda già ad aprile del 2021. Ed ora c'è una novità sostanzialmente importante, prosegue Marinelli. A fronte di una richiesta esplicita e urgente da parte dei sindacati di riconvocare quel tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, noi abbiamo ottenuto, grazie alle interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e con il Mise, che questo tavolo venga riconvocato ad ottobre. Le ragioni sono sostanzialmente due per la verifica di quell'accordo. Intanto ci sono 70 circa tra lavoratrici e lavoratori che non hanno accettato la proposta di esodo volontario e quindi bisogna scongiurare il rischio di un licenziamento forzato. E poi c'è da difendere le ragioni del mantenimento degli investimenti e della produttività di un'azienda che resta fondamentale, come ho detto, per il futuro dell'Abruzzo e dell'area Vestina. Dunque noi continueremo a occuparci di questa vicenda. Registriamo sostanziale silenzio da parte della Regione, che come sempre, quando ci sono questioni importanti che riguardano le lavoratrici e i lavoratori della Regione, decide la strada del silenzio e di non occuparsene. Noi continueremo invece a essere a fianco dei lavoratori, a fianco dei sindacati, appunto nella convinzione e nella consapevolezza che anche per quel che riguarda l'Abrioni, la strada sia quella degli investimenti, del lavoro, del mantenimento dei livelli di occupazione.